Musica 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Oh, no. È finito. Facciamo un altro pezzo. Facciamo qualche cosa che dà la carica. Ok, ragazzi, questo è un blues con un ritmo in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok? Basta. 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 Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Grazie.